Ciao zio, come? Bene, e tu? Bene. Josef chiede, perché ti chiamano tutti zio? Allora, o perché anch'io chiamo tutti zio. Questa cosa è nata l'ultimo anno di Milan con un addetto della sicurezza a Milanello e ci chiamavamo sempre zio, non mi ricordo bene il momento in particolare. Sono arrivato a Roma e ho incominciato a chiamare tutti zio, quindi è nata questa cosa qua divertente. Marco chiede, sei stato presentato giocando a FIFA, ci giochi davvero e quanto sei forte? Sì, ci gioco ogni tanto, ma non è una cosa che faccio proprio molto spesso, perché poi non abbiamo neanche così tanto tempo. Non sono fortissimo, ma mi piace. L'importante è partecipare, no? Vabbè. Vai, vado io zio, allora. Da Stewell92Fan, il tuo soprannome è il Faraone, a me quale soprannome daresti? Zio, no? Così da seca, vada poco troppo facile. Matteo vuole sapere quanto hai esultato al primo gol contro il Chelsea. Chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? Vabbè, hai esultato? Sì, ho esultato tantissimo, anche perché era inaspettato, perché una palla lì non pensavo mai potessi far gol, quindi le cose inaspettate sono sempre le più belle. Comunque sì, ho esultato tantissimo, poi 1-0 così subito, 38 secondi, no? Mi pare. Il tuo gol l'hanno fatto, vede, 100.000 volte dappertutto, quindi mi sono imparato pure i secondi in cui hai segnato. Vado io zio. Valery chiede, come ti sei sentito dopo aver realizzato il primo gol col Chelsea? Ma è stata... Inaspettata. No, inaspettata no, però è stata una grandissima, una grandissima emozione, un gol subito dopo, dopo neanche 40 secondi, 38 appunto, neanche 40, ci ha dato davvero molta fiducia, però a livello personale è stato veramente un gol indimenticabile. Anico chiede, qual è la peggiore abitudine di Stefan? Quando? Magari abbiamo qualche oretta per riposarci, no? E tu, snooker o in tv, col volume a palla, io magari voglio riposare, allora subito ti ho detto, stai, abbassa, poi dopo un quarto d'ora, allora abbassiamo, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, abbassiamo, no? E Anico chiede la stessa cosa a te, qual è la mia peggiore abitudine? E che come entri in camera, ti metti sul letto e poi tutto spento, luci spente, bisogna riposare? Eh, vuoi subito dormire. Ho capito? Eh no, noi teniamo la tipo accesa a mezz'ora, a volume a palla. Ho capito, però almeno dieci minuti, un quarto d'ora, poi ci riposiamo, invece tu no. Da parte di Nicolas, da piccolo praticavi altri sport? Sì, ho fatto per due anni, da sei a otto anni anche piscina, però... Mi fa ridere. Da parte di Lenny, cosa pensi del tifo che c'era contro il Chelsea all'Olimpico? Beh, è stato veramente calorosissimo. Ci hanno spinto per 90 minuti, non si sono mai fermati e poi a Roma è sempre bello vedere lo stadio pieno, per cui è stato veramente una bella emozione. Poi soprattutto quando anche segni, che tutti urano il tuo nome, è veramente una grande emozione. Quindi è stato... Brividi, dai, brividi. Da brividi. Lollo ti chiede, come ti stai trovando nell'atmosfera del nostro spogliatoio? No, benissimo, lo spogliatoio è tranquillissimo, è pieno di ragazzi insomma bravi, poi ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, poi... Confermo. Tu lo sai che... A parte il charawi, però sono bene. Allora, Michael ha notato un nuovo gesto nella tua esultanza, ce lo spieghi? Allora, un nuovo gesto, questo qua, così. L'ho fatto per il mio migliore amico, Manuel, che adesso sta in America e l'abbiamo inventato quest'estate e lui mi ha detto quando non sarò allo stadio, purtroppo, che sarò in America, appena farei gol farei questo gesto per meglio, l'ho promesso e quindi a ogni gol lo faccio ed è per lui. Vale. Roberta, Roberta vuole sapere quali sono il tuo film o la tua serie tv preferita? Mi piace tantissimo poi, insomma, il genere, quel film mi piace tantissimo perché ho visto quello, poi me ne piacciono sicuramente anche altri di quel genere, era Giustizia Privata. Ok. Che è bellissimo secondo me. Serie tv sicuramente, sto vedendo Narcos in questo momento, che è bello, però non ho una serie tv preferita. Da parte di Giulia, sai cucinare? Se sì, qual è il tuo piatto forte? La cicoria. Allora, Giulia, mi dispiace ma non so cucinare, se poi posso, se poi al limite posso farti una pasta in bianco. Ok, vabbè ma quello anch'io, petto di pollo e pasta in bianco. Sì, petto di pollo anche, in padella, giri, poi schiacci. Sì, semplice. Sì. Poi, allora, Valeria chiede invece, calcisticamente cosa ruberesti a Lorenzo? Dai, prendi la lista in tasca. Cosa ruberei? C'è una cosa. No, no, gli anni di carriera ruberei. Visto che sei più giovane, hai quattro anni meno di me. Non vale questa risposta. Perché, scusa? Perché è una cosa impossibile da realizzarsi. Eh, vabbè, però... Ma zio, non vale. Non vale. Dei rispondere in un'altra maniera. Vorrei tornare indietro di quattro anni. No? È una cosa impossibile. Non ci può stare. Devi dire una cosa che magari potrebbe essere... Ho risposto, ho risposto. Se potessi scegliere di essere un personaggio di un videogame, chi sceglieresti? Mi ha sempre fatto impazzire Batman. Oh, personaggio di videogame, cazzo. Batman è fighissimo, no? C'ha questa armatura, poi una macchina pazzesca, no? Batman tutto nero, bellissimo. Bello. Fa impazzire Batman. Questo è per tutti e due da parte di Gabri, che ha una fantasia incredibile. E che dice? Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa? Cosa faccio se mi entra un gabbiano in casa? Mi è entrato un pipistrello, però, questo lo posso dire una volta. A Milano. Come fratello con l'asciugamano che cercava di mandarlo via. Cercato da ammazzare. Eh, ma perché faceva sempre lo stesso giro, no? E quindi non sapevamo come fai. Ma gli avete aperto le finestre? Sì, sì, abbiamo aperto tutto, solo che continuavo a girare in tutta la stanza. Vabbè, potete lasciarlo, no? Però che ammò mando via. Un gabbiano è grosso, eh. Eh, quello lo so. È grande, è un'ampia di strella. Gabbiano è grosso. E te che faresti? Io aprirei le finestre e uscirei di casa. Aspetta che mi vado a fare un giretto, poi quando torno magari se n'è andato. Era venuto a vedere il caso. Va bene. Zio, grazie. A presto a tutti. Un saluto a tutti i nostri tifosi. Ciao. Ciao. Tiro, zio. Tiro di gollo. Non sai tirare di gollo. A parte ora è sculato quel gollo lì con il Chelsea. Sì, ma io ho riso troppo.